buongiorno buongiorno ragazzi buongiorno sto tornando sto tornando più carico di prima più accaldato anche di prima perché porca puttana sono tornato sparcato che ora è adesso non sono anche che ora è le otto e mezza sono sparcato alle sette a venezia no che l'anno facesse caldo è però sai caldo diverso in puglia aria seca si respira meglio no sono sparcato a venezia cazzo respiravo caldo e acqua nello stesso tempo ma che cazzo è sta roba comunque bando alle ciance non ce ne fai che un cazzo sono tornato ragazzi sono tornato e ritornerò online quando mi direte voi oggi porca puttana oggi 12 e 45 calcio mercato bombone di calcio mercato ultime news ultime novità ultime notizie per restare sempre aggiornati qualcosa finché ero via sono riuscito a carpire ma mi sono un po' goduto anche i giorni con la famiglia giustamente no ho visto l'ufficialità di turam parleremo dei prossimi movimenti della juventus coop mannersi coop manners no parleremo anche un po' di questi europei di merda che stanno fortunatamente per concludersi e poi parleremo soprattutto della nuova juventus tiago motta che entra la continassa e comincia a dettare legge come è giusto che sia ragazzi ci vediamo carichi carichi oggi 12 e 45 sul mio canale fino alla fine forza juventus sono tornato sono tornato e vi abbraccio tutti ciao